Sono quasi commosso, quasi eh, non completamente, però un po' di commozione ce l'ho, perché tornare qui, rimettersi qui a commentare una conferenza stampa pre-partita significa che il peggio è passato e che ci siamo lasciati alle spalle. Un'altra sosta per le nazionali, un applauso a noi, un applauso a noi. Vabbè, a parte questo impeto di gioia improvvisa così, domani torna la Juventus. Che bello, che meraviglia. E allora andiamo ad analizzare quella che è stata la conferenza stampa pre-partita di Juventus Lazio dell'allenatore della Juve, Tiago Motta. Solita domanda di rito di Juventus TV. Come ritrovate i giocatori delle nazionali? Come sta la squadra? Bene, ho visto bene quest'ultimo allenamento. Quelli che possono partecipare alla partita di domani hanno fatto un ottimo allenamento e saremo pronti domani per affrontarla Lazio. Domani tante assenze. Il risultato è prioritario o vuole la prestazione della squadra anche in emergenza? E qui Tiago Motta va a spiegarci, qualora ce ne fosse stato mai bisogno, quello che è il suo pensiero, quella che è la sua concezione di calcio, che credo sia la più giusta in assoluto perché non è estremista. E andiamo a raccontarla perché dice voglio vedere la prestazione perché è quella che ti porta risultato alla fine. Non voglio vedere l'estetica o essere belli. Quello io non l'ho mai voluto. Credo ciecamente che le squadre che giocano bene hanno più probabilità di vincere. Poi è successo che la squadra che gioca meglio non vinca, ma normalmente non è così. Per questo voglio che la mia squadra giochi bene. Non per giocare, ma per giocare bene intendo tante cose come difendersi bene, pressare bene, ricompattarsi, avere umiltà, generosità di difendere con un blocco basso insieme per poi andare avanti e pressare, avere la palla, uscire da dietro se gli avversari non hanno il coraggio di venire uno contro uno, andare in avanti attaccando gli spazi che sappiamo attaccare, attaccare davvero l'area avversaria per fare gol. Questo intendo per giocare bene. Sono tante cose fatte insieme per avere dei vantaggi e più probabilità dell'avversario di vincere. Per questo per me la prestazione va d'accordo sempre con il risultato. Questa è davvero una risposta completa, meravigliosa, che sarebbe quasi da salvare in un file. Che cosa si intende per giocare bene? Io tante volte ho provato a farvi questo stesso discorso. Ricordo di aver fatto anche un video in cui spiego quello che per me è il giocare bene e ritrovo tanti concetti che avevo già detto anch'io nel pensiero di Tiago Motta. Per questo sono molto felice di sentire l'allenatore parlare in questo modo. Io assolutamente non sono uno di quelli che preferisce giocare bene e non vincere mai. No, la prestazione deve arrivare per avere un risultato. Cioè queste due componenti che negli ultimi anni dal punto di vista comunicativo sono state messe in estrema contrapposizione e in realtà fanno parte della stessa cosa. Non ha senso giocare bene per giocare bene e basta. Lo scopo di una partita di calcio sarà sempre quello di vincere la partita. Poi può arrivarci in mille modi diversi. E anche il fatto che Tiago Motta parli di difendersi bene è una cosa importantissima. Non ha praticamente mai parlato di avere la palla. L'ha detto una volta dicendo avere la palla. Una volta. Non è che ha detto dobbiamo per forza di cose far girare a fare 6.000 passaggi perché tante volte le persone, ma secondo me questo è una sorta di tarlo mentale che ci siamo imposti per via della Spagna. Quando la Spagna e il Barcellona in quegli anni, il Barcellona di Guardiola, la Spagna del tiki-taka, ha imposto quel tipo di gioco quindi basato fortemente sul palleggio, questa generazione, la nostra generazione e anche un po' la generazione prima è andata a modificare l'idea di giocare bene, è andata a associarla semplicemente al possesso palla. Se hai la palla giochi bene, se non hai la palla giochi male. Non è solo questo. Essere organizzati, essere efficaci, fornire la prestazione migliore in ogni momento della partita, perché la partita è fatta di tanti momenti diversi. La partita va letta, va capita, va compresa, perché se no non stai facendo una buona prestazione. È tutto questo per arrivare al risultato. Quindi grazie mille a Tiago Motta perché è andato a raccontare quello che finalmente deve essere sempre detto, e cioè che prestazione e risultato devono andare avanti di pari passo e non si può preferire l'uno all'altro, perché se no non stai prendendo in considerazione il 100% degli elementi che ti permettono di vivere al meglio una partita di calcio. Indisponibili? Non ho fatto il punto, lo sapete meglio voi di me. Fagioli è disponibile per domani, ma non ci saranno Cobb Mainers, Milik, Gleason, Nico, Weston e con 6 sao che è squalificato. Quindi domani veramente 1, 2, 3, 4, 5, 6 assenti. Praticamente tutti offensivi, escluso Bremer che ha riportato la rottura del crociato, si è operato e sta iniziando un po' di riabilitazione. Ti aspettiamo, ovviamente. Non vedo l'ora di rivederti al centro della nostra difesa. Chi è più adatto a giocare nel ruolo di Cobb Mainers? Vedremo domani. Chiaro che dobbiamo trovare equilibrio tra la fase difensiva e con l'offensiva, per permettere ai nostri giocatori disponibili di essere in condizione di arrivare vicino all'area di rigore. Dei disponibili metteremo chiunque in condizione di esprimersi al meglio, soprattutto che la squadra possa funzionare al meglio. Perché Tiago Motta torna a dire, sì, va bene, il singolo che va messo nelle migliori condizioni possibili, però poi l'importante è che giri la squadra. Per girare la squadra poi si deve arrivare al risultato. Questo è assolutamente il pensiero di Tiago Motta, che si fa anche autocritica e ci arriveremo. Domanda importantissima, quella su Douglas Lewis. Attenzione, perché secondo me si rincastra nuovamente in un'analisi che avevo fatto, in cui si prendeva in considerazione due o tre giocatori che non stavano giocando, tra cui Danilo, Cabale, eccetera, eccetera, io inserisco anche Douglas Lewis, perché anche qui gli hanno fatto la domanda su Douglas Lewis. Douglas Lewis, percorsi e salita, durante la sosta avete parlato? Tiago Motta non è stato diretto, forte, è andato dritto sul discorso, ha fatto un bel respiro, ha dovuto ragionare un attimo e poi ha detto una cosa molto strana che accende un piccolo campanello d'allarme con la domanda successiva, perché dice sinceramente ho parlato con lui pochissimo, mi fermo solo un attimo, perché poi andiamo ad analizzare tutta la domanda. Ho parlato con lui pochissimo durante la sosta, ed era lì, era a disposizione per allenamenti, eccetera, eccetera. Poi gli fanno una domanda su Vlaovic, dicendo che ci saranno tante partite e che Vlaovic difficilmente potrà essere sempre titolare. E Tiago Motta dice, penso domani, sta molto bene e giocherà, per le successive vedremo giorno dopo giorno parlando con il ragazzo e lo staff. Quindi dice che in maniera, cosa che facciamo quotidianamente per capire quali sono le condizioni, che questa cosa viene fatta in maniera quotidiana, parlare con i giocatori. naturale. Stiamo veramente commentando la scoperta dell'acqua calda. Gli allenatori parlano con i calciatori, ci mancherebbe altro. Facciamo quotidianamente. Durante queste giornate, questi giorni di pausa nazionale, invece ha parlato pochissimo con Douglas Lewis. Allora, qui bisogna cercare di entrare nell'analisi della persona Tiago Motta. E noi l'analisi della persona Tiago Motta la possiamo fare soltanto basandoci su quelle che sono le informazioni che abbiamo in conferenza stampa. Ma non tanto dalle parole, quanto più per le espressioni. Cercare di comprendere che tipo di allenatore, di uomo è. E mi sembra un uomo molto onesto. Una persona che ha voglia di dire le cose. E che difficilmente riesce a mentire. Tant'è che quando deve dire qualcosa di scomodo, fa dei giri lunghi. Ma quando fa dei giri lunghi e quindi non è diretto, sta allo stesso tempo dimostrando che c'è, secondo me, questa è tutta un'analisi personale, mi sono fatto io il viaggione indubbiamente, però sta dimostrando che c'è qualcosa che non va. Perché dico questo? Perché vi ho già spiegato che tante volte quando Tiago Motta fa delle domande su dei giocatori che lui considera dei titolari, che sta inserendo con continuità, con Seisao, Gatti, Bremer, Cambiaso, Locatelli, Vlaovic, me ne sfuggono sicuramente altri, McKennie. Tutti questi giocatori che Tiago Motta vede nella formazione titolare, vede davanti a quegli altri o comunque come i primi cambi, ma sono i suoi giocatori. Tantissime belle parole, un sacco, parliamo quotidianamente, gli allenamenti carica al gruppo, eccetera, eccetera. Su Douglas Lewis, su Cabal, su Danilo, non gli ho mai sentito esprimere questi concetti. Quindi la mia idea è che possa esserci anche qualcosa proprio a pelle tra questi giocatori e l'allenatore. Mia personalissima opinione, non significa che sia giusto. Però il fatto che con i giocatori si discuta quotidianamente e con Douglas Lewis invece si sia parlato pochissimo in questa pausa nazionale, beh, un attimino mi fa ragionare, mi fa pensare, mi fa dire Ehi, ma davvero? Che cosa sta succedendo? Questa cosa può essere reale? Sì, oppure no? Andiamo avanti, perché dice Allo stesso tempo ho visto in lui un atteggiamento ottimo nell'allenamento. Sta veramente bene Douglas. Giocatori forti come lui, in certi momenti di difficoltà, questi certi momenti di difficoltà servono anche a vedere la relazione di una persona e ho visto una relazione fantastica. Poteva fermarsi perché ha avuto situazioni fisiche particolari, come le hanno tutti, ma lui non si ferma e continua ad allenarsi nel modo giusto. Continua a fare quello che chiediamo e anche qualcosa in più, perché mette la sua creatività in allenamento e nel gioco. Quando lo vedo così, sono tranquillo, è la strada giusta per un giocatore come lui per essere protagonista. Fino ad oggi ha giocato e quando l'ha fatto, ha fatto bene, ma può fare meglio e sono contento di quello che dà in allenamento. Vedremo domani se partirà o parteciperà. Attenzione, non sto dicendo che non abbia espresso delle buone opinioni su Douglas Lewis, perché l'ha fatto. Ha parlato di atteggiamenti all'allenamento, ha parlato di quanto è forte il giocatore, l'ha fatto sicuramente. Però rimane quel particolare con cui ha iniziato la frase e ha detto, la frase inizia con, sinceramente, sinceramente con lui ho parlato pochissimo. Non c'è questa linea comunicativa tra il giocatore e l'allenatore, perché? E poi ha parlato anche dei problemi fisici, che noi non abbiamo letto in questi giorni. Cioè, non abbiamo mai saputo dei problemi fisici di Douglas Lewis che magari hanno impedito al giocatore di allenarsi bene, prendere parte a una partita da titolare. Io su Douglas Lewis ho una mia idea. Io sono convinto che Douglas Lewis sia un giocatore forte. A me piace il tipo di giocatore che è Douglas Lewis. Ma sono anche dell'idea che in questo momento non sia pronto per giocare nella Juventus. Perché non mi sembra che vada ad approcciare la partita con la giusta mentalità. Che non si sia ancora calato all'interno della parte di un gruppo che invece va in quella direzione lì. di giocare bene come ha inteso Tiago Motta e come ci ha spiegato prima Tiago Motta. Mi sembra che faccia soltanto una parte di tutta quella componente che invece deve essere fondamentale e messa a disposizione al servizio della squadra per poi arrivare a vincere le partite. Quindi siccome bocciare Douglas Lewis oggi è eccessivo chi dice è un bidone siccome sta sbagliando perché io sono davvero convinto che sia un giocatore forte che in questo momento non ha ancora trovato la sua identità la sua dimensione, la sua realtà. E credo che questo passi anche dal rapporto con l'allenatore. Quindi attenzione a darlo per finito, bollito giocatore che non vedrà mai il campo eccetera eccetera perché secondo me riuscirà a ritagliarsi il suo spazio ma per farlo sono dell'idea anche queste tutte considerazioni mie personali che debba cercare di inserire nel suo bagaglio anche cose che forse fino a questo punto non ci sono mai state. E credo che questo sia anche uno dei motivi per cui non c'è stato tanto mercato sul giocatore. Giocatore che comunque in premio era fatto non bene ma benissimo perché i club di Premier non si sono fiondati su di lui? Probabilmente perché gli manca ancora questa cosa qui. Riuscirà a prenderla su? Secondo me sì e anche grazie al rapporto con Tiago Motta perché mi sembra un allenatore che comunque tramite gli allenamenti riesce ad aggiungere qualcosa a tutti i giocatori. Da quelli che sono un po' più limitati a quelli che invece sono ben dotati tecnicamente come Douglas Lewis che credo sia uno dei giocatori tecnicamente più forti presenti attualmente nella Rosa della Juventus. Vedremo anche perché io sono dell'idea che un giocatore non si possa valutare in due mesi in cui titolare è partito una volta. Credo che sia necessario vederlo almeno per una stagione e poi farsi un'idea almeno perché forse anche una stagione e mezza se non due sono necessarie per comprendere e capire davvero il potenziale di un giocatore. Tre partite una settimana, quattro in dieci giorni Vlaovic è l'unico centravanti sarà sempre titolare? E poi c'è quel pestettino che ha detto prima aggiunge vorrei immaginare che fosse al 100% tutte le partite ma sappiamo perfettamente che potrebbe non essere così. Per la Lazio sta molto bene e sarà presente quindi domani Vlaovic dovrebbe giocare come centravanti meno male anche perché davanti siamo messi molto molto male. Ma centravanti se non gioca Vlaovic chi ci gioca? E come mai la Juve non segna mai su pallina attiva? Questa è una domanda interessante perché ancora non abbiamo capito su Vlaovic ma soprattutto una considerazione intelligente perché anch'io sto continuando a dire la Juventus segna poco e non segna su pallina attiva e questo deve essere per forza di cose una componente che va inserita all'interno di una squadra come la Juventus perché è una componente essenziale nel calcio di oggi. Domani potrebbero giocare in tanti da centravanti dipende come vedi il centravanti può essere inteso fisso o che si muove vuol dire che ognuno con le sue caratteristiche può fare quel ruolo o occupare quegli spazi. E qui spiega Tiago Motta perché lui ha visto pure Weah in quella posizione Weah che tra l'altro dovrebbe essere recuperato perché non era appunto nell'elenco di prima e Tiago Motta dice è vero fino ad oggi non abbiamo segnato ma abbiamo tutte le possibilità di farlo già da domani abbiamo giocatori che hanno sempre dimostrato di essere bravi nelle palle inattive serve quella voglia di andare nell'area avversaria e di fare gol come quando invece difendiamo nella nostra per non prenderlo una lettura interessante ma sono convinto anch'io che la Juve possa avere tanti gol da palle inattiva nel bagaglio e che ne abbia anche comunque persi tanti con l'infortunio ahimè di Bremer troppe partite Spalletti ha detto che per lui non è così lei come la vede? è ancora questa domanda quante volte gli hanno fatto Tiago Motta questa domanda Tiago Motta dice alla fine lo sapevamo dall'inizio non c'è da lamentarsi oggi bla 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 il mio compito è avere sempre il giocatore al meglio in ogni partita bla 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 se poi quando se ne potrà parlare lo faremo ma lamentarsi oggi non ha senso che palle ragazzi veramente quante volte gli hanno fatto questa domanda Tiago Motta sulle tante partite cioè se fossi Tiago Motta andatevi a ripescare le conferenze stampa in cui dei vostri colleghi hanno fatto la stessa domanda e io ho dato la risposta perché non è che cambia idea da un giorno all'altro Aztic come sta? l'ho visto molto bene anche come postura mi piace sta bene come giocatore l'ho visto in allenamento ed è un grande giocatore lui ha meno responsabilità di altri e quando gli toccherà giocare sono convinto che farà bene può fare il centrocampista può essere più offensivo o meno offensivo e può giocare anche da esterno anche se per caratteristiche per me non lo è ma lo può fare in allenamento si impegna tantissimo e dimostra di aver voglia di partecipare quali rischi ci sono nella partita con la Lazio? è una casualità che la Juve abbia pareggiato tre volte su quattro prima e dopo la sosta e qua Tiago Motta fa un po' di autocritica che secondo me è sacrosante ed è giustissima e dice non credo nella casualità noi abbiamo semplicemente pareggiato perché non abbiamo fatto abbastanza per vincere ed è una grande realtà se non abbiamo vinto è perché non abbiamo meritato veramente di vincere giocando meglio dell'avversario e quindi non l'abbiamo fatto e qua che cosa gli vuoi dire? è giusto così? col Cagliari hai fatto una gran partita hai meritato di vincere? no perché non l'hai chiusa e sei andato a procurarti un calcio di rigore che era veramente inutile in un intervento veramente inutile e quindi sì non hai meritato di vincere con l'Empoli hai meritato di vincere? no con la Roma? no col Napoli? no col Cagliari? no nonostante una grande prestazione che non sia poi convertita in gol quindi giusto e quindi questi quattro pareggi sono giusti per la Juve e poi ripeto noi qua siamo a fare il funerale alla Juventus perché c'è un sacco di gente ragazzi è stato uno degli argomenti di dibattito principale all'interno di questa pausa nazionale ma il funerale alla Juve perché ha pareggiato quattro partite a me sembra veramente una follia cioè l'analisi giusta da fare in questo momento è la Juventus deve far più gol e deve far più gol da pala inattiva non la Juventus ha pareggiato quattro partite questo mi sembra veramente un po' eccessivo ma sarà una lettura mia la Last è una buona squadra con i giocatori che stanno bene un allenatore molto esperto che viene da tante stagioni fatte bene tra A e B lo ammiro tantissimo ci siamo incontrati gli ho fatti complimenti ha fatto un grandissimo lavoro non facile è un bel avversario da sfidare competere ed essere pronti a tutto per ottenere un risultato positivo lei dice sempre che è la Juve del gruppo e non del singolo conta anche domani quanto questa squadra ragiona più da noi che da io e Tiago Motta giustamente dice questo conta sempre non solo domani poi conta anche per domani magari un po' di più domani per via delle assenze è l'opportunità di alcuni di dimostrare esprimere il valore della squadra ma non è la mia Juventus è la realtà è la nostra Juventus c'è una società un allenatore la squadra si costruisce con delle idee per avere più competitività possibile domani avremo la possibilità di dimostrare di essere competitive niente di più e niente di meno anzi domani lo stadio sarà pure pieno un'altra volta con grande entusiasmo della gente che crede in noi nella vita nessuno ti regala niente se vengono allo stadio perché hanno voglia di vedere e identificarsi con il campo è una squadra che vuole lottare combattere e giocare bene a calcio per ottenere un risultato positivo Gaza cosa mi devo dire Gaza Gaza perché quando parli ai tifosi e parli di identità e parli di unione di fusione con l'ambiente secondo me fai sempre centro e quindi bravo Tiago Motto a toccare queste corde tra le squadre sorpresa c'è anche la Lazio sorpreso di vederla così in alta in classifica me l'aspettavo alta in classifica è una grande squadra con buoni giocatori e un grande allenatore non mi sorprende nessuno regala niente hanno conquistato e meritato noi domani vogliamo fare bene il nostro lavoro per ottenere un risultato positivo a me invece nota a piedi pagina sorprende sono onesto non mi aspettavo una Lazio così impattante sulla serie A da poco non mi è piaciuto il mercato della Lazio la scelta della Lazio sull'allenatore però fino ad adesso sta facendo molto bene e quindi questo è un dato di fatto Turam come sta e la serie A è sottovalutata e Tiago Motto dice non lo so per me no da quello che vedo essendo ad altri allenatori è un campionato tattico e lo penso anch'io non capisco perché la serie A dovrebbe essere sottovalutata sinceramente non ho capito da dove venga questa riflessione ma mi sarò perso o qualcosa Turam sta bene è sempre stato molto bene è un ragazzo che vuole migliorarsi tutti i giorni con grande ambizione è cresciuto bene con un grande maestro e si vede in campo non è contento quando non gioca ma lo accetta perché sa che è una decisione mia vuole migliorarsi sempre per giocare sempre per questo sono contentissimo per il lavoro fatto fino ad oggi e deve continuare così e poi quando gli chiedono una precisazione su chi è il grande maestro Tiago Motto risponde ovviamente è il papà ho giocato insieme a lui e lo conosco molto bene immagino che abbiano giocato insieme ai tempi del Barcellona perché Turam è andato al Barcellona nell'estate 2006 e probabilmente Tiago Motto in quel periodo era un giocatore del Barcellona immagino che sia stato quello il periodo perché poi Turam ha fatto Parma Juve e basta perché poi si è ritirato al Barcellona quindi ok dato che non possono aver giocato insieme in nazionale credo proprio che il Barcellona sia l'unica squadra che hanno condiviso i due e che possono avere condiviso anche nel periodo storico quindi ragazzi questo è quanto questa è l'analisi della conferenza stampa di Tiago Motto anche oggi abbiamo tirato in ballo diversi argomenti sono contento di questo sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti perché abbiamo veramente toccato tanti piccoli tastini e finalmente concedetemelo è finita è finita la pausa nazionale torna la Serie A torna la Juventus avremo una full immersion in un mese di ottobre che sarà tostissimo pronti già da domani a impegnarci a soffrire insieme e si spera anche ad esultare ciao a tutti e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti